Siete dei vigliacci! Non ci fermerete! Sei un dono della Dea in persona. E per le Moire. Ha scelto bene. Mi fai arrossire, straniera. E potrei fare anche molto di più. Non saprei, ma di certo sai decisamente combattere. Sono una sacerdotessa dell'amore, ma so anche mordere. Lo faccio... sempre. Bisogna essere arditi per attaccare una sacerdotessa. Devi essere importante. Sono Diona, una semplice novizia nata per servire Afrodite. Questi criminali sono dei cani della setta di Cosmos. Non è la prima volta che attentano alla mia vita. La setta? Dimmi tutto quello che sai. Ora. Non qui. Saremo più al sicuro in città. Mi scorterai? Andiamo. Al nostro arrivo, mi direi tutto ciò che sai sulla setta. Fuori dai piedi, Perdeus! Avanti! Sbostatevi! Ehi! Dai! Sbostatevi! Che! Dai! Qui sono al sicuro. La setta di Cosmos non colpirebbe mai all'interno della città. Bene. Dimmi di più su di loro. Subito? Almeno lasciami riprendere fiato. E dammi anche il tempo di ammirare per un po' la tua bellezza. Basta chiacchiere. Dimmi quello che sai sulla setta. Se insisti, abbiamo sempre tenuto d'occhio la setta e ultimamente si è fatta più audace. Per le moire. Hanno costretto mia sorella, la gran sacerdotessa, a rinchiudersi nelle sue stanze. Deve essere coinvolto un membro di alto grado. Se cercano di uccidere una persona così in vista. Non abbiamo a che fare con i soliti tirapiedi. Mia sorella vuole liberare Citerra dalla setta e trovare i membri responsabili dei suoi problemi. Rischiare la tua vita mentre lei si nasconde? Ridicolo. Purtroppo, per Citerra la sua vita conta più della mia. Per le moire, Mistius, non posso liberare Citerra da sola. Devi aiutarmi. Ah, liberare Citerra? Io non lavoro gratis. Un vero e proprio Mistius. La setta ha dei piani per il mondo greco. Grazie ai miei metodi conosco le loro prossime mosse e dove agiranno. Immagino che queste informazioni possano esserti utili. O, se non bastassero a soddisfarti, lo farò io. Beh, è passato un po' di tempo dalla mia ultima... Comunione con gli dèi? E non temere. Avrai anche delle dracme per i tuoi servigi. Sei un'abile negoziatrice. Quindi, che cosa vuoi che faccia? Solo tre semplici lavori. Innanzitutto, il mio socio al porto ha bisogno d'aiuto. Vai da lui. Cos'altro? Mia sorella pensa di aver individuato un traditore tra le nostre file. Se ha ragione, le servirai il tuo aiuto. La troverai al tempio. Infine, le lame avvelenate sono le armi delle sacerdotesse. Ma dei banditi hanno saccheggiato i nostri depositi e si sono rifugiati tra le rovine micenei. Malacca, se non è la setta, sono i banditi. Recupera le nostre fiale di veleno. Torneranno utili per combattere la setta. Sei fortunata. Ho già incontrato dei banditi alle rovine a sud. Questo è tuo? Per le moire, sì. Grazie, Mistius. Ora possiamo prepararci ad affrontare la setta. Dimmi di più sulle tue altre richieste. Dimmi, il tuo socio, dove si trova? Chiedi del capitano alla taverna del porto di Scandeglia. È l'ubriacone molesto. Il tempio, dove si trova? È al posto di guardia di Afrodite, sulla collina. La gran sacerdotessa è lì, nascosta nelle sue stanze. Farò il possibile. Per te e ci terrà. Grazie, Mistius. Magari, quando sarà tutto finito, potremmo rilassarci insieme. Priorità, Diona. A presto. Dè vrò nexo i tiriè da.